Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una tematica che è molto interessante. I viaggi dimensionali, i viaggi nel tempo. Diciamo che ci sono tante storie legate ai viaggi nel tempo, a persone, individui, che sono giunti qui, nella nostra realtà, nella nostra frequenza, a raccontarci qualcosa del futuro, o nel caso comunque dei viaggiatori extraterrestri, sono venuti magari qui per redarguire i governi, per redarguire l'umanità, per offrire un progetto migliore, come nel caso di Valiantor, il venusiano, venuto appunto da Venere proprio con l'intento di presentare un progetto per migliorare appunto la vita sulla Terra, che poi ovviamente dal presidente Eisenhower fu categoricamente rifiutato. Ve ne ho parlato, vi ho parlato di Valiantor, basta andare comunque un po' indietro nei video e trovate tutto. Quindi ci sono molte storie, vi ho raccontato anche la storia di Joffar Wawling, insomma, come la storia di Joffar Wawling, ce ne sono tantissime altre, il viaggiatore di Taured, Lerina Garcia, tante tante, no? Ma diciamo quella più famosa, quella che ha catturato l'attenzione di tantissime persone, è stata la storia di John Titor, quest'uomo proveniente, sempre secondo lui, dal 2036. Bene, lui è venuto qui per recuperare un computer, insomma, se siete interessati ad approfondimenti riguardanti la storia di John Titor, fatemelo sapere, vi proporrò un video, senza ombra di dubbio. Oggi però voglio concentrarmi su un altro aspetto di Titor, perché a me Titor non convince per niente. Sono stati realizzati tantissimi documentari riguardo a John Titor e tutti hanno parlato di un uomo che è giunto qui, dal 2036, fornendoci delle informazioni top secret, delle informazioni che avrebbero per sempre cambiato le sorti della Terra, della vita, no? Ci ha parlato di guerra, di terza guerra mondiale, un argomento che in molti hanno affrontato. Ricordiamoci per esempio la lettera di Albert Pike, molto molto interessante anche lì. Ma si parla di reali viaggiatori del tempo o di insider che ovviamente conoscono bene i fatti, conoscono bene la cricca e quindi non è un problema fare simili previsioni in ottica futuristica? Tutti quanti potremmo essere dei John Titor, ragazzi, se ci pensate. Basta avere la conoscenza di ciò che si cela dietro alla realtà finta che ogni giorno ci ritroviamo a vivere. Basterebbe essere degli insider, infiltrarsi in ambienti politici, in ambienti scientifici per capire e andare a predire il futuro. Perché si parla di un piano volto all'edere l'umanità, un piano che è stato progettato decenni fa, ma che dico decenni fa? Persino secoli fa. Qui si parla comunque di un potere che ha avuto origine in antichità, di un potere, di un'energia negativa che ha messo le proprie manacce, se così lo possiamo dire, sin dall'antichità. Non si parla di un qualcosa che è sopraggiunto nell'ultimo decennio. Assolutissimamente no. Per cui, ecco, oggi volevo un attimo vedere insieme a voi quelle che sono state le stesse regole. Le regole. Perché John Titor, quando è arrivato qui, è arrivato ovviamente per riprendere, lui dice di essere stato inviato per recuperare questo computer, no? Che serviva. Poi, andando avanti comunque, nella conversazione, John Titor si è espresso e ha parlato della Terza Guerra Mondiale, lasciandoci addirittura delle regole. Ci sono proprio delle regole per la Terza Guerra Mondiale lasciate da John Titor, che io mi sono appuntata sulla mia agendina di Alice. e oggi volevo leggervele anche per cercare innanzitutto di capire cosa ne pensate voi, se eravate a conoscenza dell'esistenza di queste regole, se ne avete già sentito parlare, se le avete già lette, cosa ne pensate soprattutto. Ovviamente lui quando si esprime, si esprime tenendo conto dell'aspetto dell'America, ecco. Quindi delle abitudini americane, parla di Costituzione americana, cosa che a noi, che per esempio viviamo in Italia, poco ci interessa, parliamoci chiaro, voglio dire, no? Quindi parla di Costituzione americana, parla del terzo conflitto mondiale, cosa che è stata predetta da tanti, tanti, tanti altri personaggi. Io prima vi ho citato Pike, ma lo stesso Richard Day, nel 69, nella sua riunione, in cui erano presenti appunto molti pediatri, lui che cos'è che ha detto? Non ha fatto altro che elencare tutti i punti che avrebbero poi caratterizzato il mondo del futuro, il mondo che oggi noi ci ritroviamo a vivere. Ovviamente le parole che Richard Day ha detto ormai nel lontano, 69 si stanno comunque realizzando, ma non era un viaggiatore del futuro, non era una persona che prevedeva il futuro, era semplicemente una persona che faceva parte della cricca e quindi ovviamente facendo parte della cricca queste cose le sai, le sai perché sei a conoscenza del piano. Quindi ecco perché dico che tutti quanti potremmo essere dei John Titor, magari, non so, uscircene con una storia dubbia e dire che proveniamo, esempio, dal 2040, che il mondo nel 2040 è molto più innovativo, c'è una tecnologia in grado di fare cose inimmaginabili, sono state costruite macchine del tempo, posso dire che nel 2040 ci stiamo rialzando da un conflitto nucleare che purtroppo è avvenuto a causa dell'ignoranza generale della gente, a causa dell'incomprensione dei governi, posso anche fare la, posso anche azzardare e dire tra chi è scoppiato il terzo conflitto mondiale, insomma, tutti quanti potremmo essere ragazzi dei John Titor, potremmo inventarci una bella storia e magari essere, no, presi in considerazione da i classici media convenzionali, perché molti programmi si sono occupati di questa storia, però guarda caso, tutti a parlare di John Titor, ma quando ci sono magari delle storie che secondo me, no, bisognerebbe prendere in considerazione, lì poi nessuno ne parla, quindi secondo voi hanno potuto utilizzare la storia di John Titor per deviare la mente umana, per cercare di far credere una cosa che in realtà non è, per spaventare ulteriormente la gente con quest'ombra della terza guerra mondiale, perché della terza guerra mondiale ragazzi, se ne parla ormai in lungo e in largo, se vediamo per esempio documenti storici, ma anche il gioco, il classico gioco degli illuminati, le carte di cui io vi parlavo che hanno predetto tantissime cose come, insomma, adesso non si possono nemmeno nominare determinati avvenimenti che hanno caratterizzato la storia, però hanno predetto tante tante cose, addirittura le elezioni di Trump, eccetera, eccetera, no, quindi gioco che era stato comunque diffuso e creato molti anni prima, no, che determinati eventi avvenissero appunto, e, quindi, voglio dire, tanti sono coloro che hanno predetto per esempio lo scenario futuro in cui ci ritroviamo a vivere, ma, chiariamo questo, i produttori, coloro che hanno, no, che sono andati a scrivere, perché prima di andare a registrare un film bisogna distendere l'idea, coloro che sono andati lì a buttare giù l'idea per un film come Matrix, un film come Equilibrium, un film come Equals, un film come Upgrade, secondo voi si tratta di sprovveduti, si tratta di persone che effettivamente, sì, un giorno si sono messe lì, si sono inventate la storia della realtà, la storia delle frequenze, la storia di questa Matrix che viene perennemente controllata, assolutissimamente no, o almeno, secondo me, no, secondo me non erano sprovveduti, non sono sprovveduti, queste persone, come se cercassero di far vedere all'umanità quello che avverrà e che sta già avvenendo, io faccio sempre l'esempio degli assistenti vocali, gli assistenti vocali che oggi vengono proprio quasi con tanto amore venduti da Amazon e non solo, vengono innanzitutto venduti a prezzo stracciato, perché? Per essere comunque più economici, no, e quindi per andare a colpire anche il compratore che non ha le tasche stracolme e che non si può permettere l'aggeggio da 100 euro, anche a 30 euro li trovate benissimo, quindi innanzitutto vengono incontro, a coloro che potrebbero acquistare l'oggetto andando a ribassare il prezzo, perché si trovano veramente a basso prezzo, tutti questi dispositivi. Bene, tutti questi dispositivi prima venivano osservati in azione nei film, nei film cosiddetti futuristici, oggi invece sono parte integrante della nostra vita, parte integrante della mia quotidianità, no, io ovviamente mi è stato regalato, non lo uso, lo tengo lì in scatola, per cui no, però ragazzi, questi sono dispositivi che ormai fanno parte integrante della vita di tante persone, di tanti individui, no, e quindi il film, voglio dire, coloro che hanno, sono andati a distendere la trama per questo film, non è che provenivano dal futuro, semplicemente conoscono magari determinate cose che all'umanità in generale non è dato sapere. Bene, ma concentriamoci su John Titor, io non mi fido molto della storia di John Titor, non mi fido di quello che John Titor ha detto, sinceramente, perché hai di impaurire, a creare panico, siamo bravi tutti e poi parliamoci chiaro, ci sono tanti coloro che tanti che si sono espressi in merito al terzo conflitto mondiale, primo tra tutti Pike, che non ha descritto i due conflitti più il terzo conflitto, no, che secondo lui sarebbe avvenuto in futuro. Tra l'altro Pike è molto preciso nella sua lettera perché descrive proprio quello che avverrà e si tratterà di un conflitto nucleare, così dicono, e addirittura dice nella sua lettera Pike anche che anche le fazioni, no, quindi tra chi si andrà a combattere questo conflitto. Comunque, ecco le regole di John Titor. Non mangiate e non fate uso di prodotti animali che a loro volta si siano nutriti e abbiano mangiato i loro simili morti. Bene, su questo punto io sono d'accordo, sono d'accordo sul fatto di non andare a sbilanciarsi ragazzi sulla carne. Allora, su questo io andrò magari a registrare un video a parte, però io vi avevo già parlato di questo agente, eh, di questo agente che è stato comunque, sì, è stato riversato nella carne animale e che si chiama prione. Io non so se ne avete mai sentito parlare del prione, ma il prione ha infettato le carni animali per cui in un mondo così manipolato, in un mondo così fortemente malsano, io vi consiglio di diffidare o meglio la cosa che vi consiglio di fare io è magari comprare la carne da allevatori di fiducia, da persone che conoscete bene, diffidate dalla carne dei supermercati. Questo è un consiglio che io vi do anche perché qui in Puglia di storia se ne sono sentite davvero tante cercate di comprare questi alimenti innanzitutto io mi sono completamente discostata dalla carne io poi ognuno è libero di mangiare quello che vuole ragazzi però diciamo che questo punto non mi colpisce poi tanto perché io di carne nemmeno ne mangio però la cosa che voglio dirvi è che cercate di comprare quando si tratta di alimenti freschi innanzitutto di comprarli da allevatori comunque di fiducia e poi soprattutto di comprare questi alimenti e di assicurarvi che siano freschi e di diffidare molto spesso dei supermercati non lo dico con cattiveria ma lo dico magari perché mi sono ritrovata a sentire ascoltare molte storie poco piacevoli quindi il primo punto è questo Titor vi consiglia per prepararvi a non alimentarvi a non mangiare prodotti animali che a loro volta si siano nutriti e abbiano mangiato i loro simili morti anche se molto intelligente da parte di Titor una persona nel momento in cui va a comprare la carne non è che sta a chiedere al macellaio scusi macellaio ma l'animale che mi sta vendendo per caso ha mangiato un suo simile morto cioè ragazzi quindi anche qui è un po' lascia il tempo che trova comunque poi non baciate e non abbiate relazioni intime con qualcuno che non conoscete fortunatamente è arrivato John Titor a dircelo fortunatamente è arrivato John Titor a dircelo è arrivato persino dal 2036 ragazzi non per niente ci ha detto una cosa veramente unica unica che nessuna mamma nessun papà nessuna zia ci ha mai detto non baciate non abbiate relazioni con qualcuno che non conoscete perché ragazzi non per cattiveria ma assicuratevi assicuratevi sempre delle persone con cui avete delle relazioni anche sessuali perché no siamo adulti quindi diciamocelo anche perché potreste voglio dire riscontrare diversi disturbi malattie eccetera eccetera quindi siate sempre persone intelligenti agite con intelligenza non siate sprovveduti ma fortunatamente è arrivato John Titor a dirlo poi imparate la sanità di base e la purificazione dell'acqua sentitevi a vostro agio tra le armi da fuoco imparate a sparare ed a pulire comunque a pulire una pistola ci dice ovviamente sempre riallacciandosi allo scenario così no americano ma dico io un John Titor che proviene dal 2036 lo sa oppure no che stanno cercando comunque di levare addirittura anche le armi alla popolazione americana proprio per levare qualsiasi arma di difesa eppure provieni dal 2036 caro John Titor e queste cose non se le ha dette nessuno ma da quale 2036 proverrà mai questo John Titor comunque vado avanti quindi addirittura dovreste imparare a pulire a sparare procuratevi un buon kit di pronto soccorso di pronte emergenze e imparate ad usarlo fortunatamente è venuto a John Titor a dirlo cosa veramente scioccante non lo sapevo non lo sapevo trovate 5 persone nel raggio di 100 miglia di cui vi fidate e rimanete in contatto con loro procuratevi una copia della costituzione americana e leggetela mangiate meglio ah mangiate anche meno quindi non abbuffatevi ragazzi qui magari possiamo collegarlo al fatto di cercare comunque di creare equilibrio questa è una cosa che vi consiglio cercate di trovare l'equilibrio tra corpo e mente perché mangiare tanto non fa bene mangiare troppo poco anche non fa bene perché il cibo è il nostro carburante mentre lo sto dicendo a voi questo lo sto dicendo anche a me stessa perché io comunque ho avuto problemi anche molto seri dal punto di vista alimentare quindi voglio dire no queste cose si sanno ma fortunatamente c'è John Titor che ce le dice poi nelle sue regole c'è procuratevi una bicicletta e due ruote di scorta allenatevi a percorrere 10 miglia a settimana e per ultimo pensate a quello che volete portare con voi se dovreste lasciare la città in 10 minuti se dovreste diciamo lasciare la casa scusate in 10 minuti per non farvi più ritorno quindi ragazzi preparatevi lo zainetto da mettere in camera con le 10 cose di cui non potreste fare proprio a meno diciamo che io quando ero piccola vi racconto questa cosa qui non sono solita raccontare cose di me di quando ero piccola ma io quando ero piccola litigavo con mia mamma avevo sempre il vizio di prepararmi lo zaino di metterci sapete vabbè all'epoca che potevo mettere i pupazzi cose no che barbi barbi mettevo tutto nello zainetto cose che non mi sarebbero mai servite perché una barbi non mi avrebbe fatto sopravvivere un pupazzetto non mi avrebbe fatto sopravvivere uscivo da casa scendevo una rampa di scale poi saliremo nuovamente suonavo alla porta perché comunque voglio dire ero di ritorno ero già di ritorno no vabbè io quando ero piccola ero davvero una peste però a parte questo beh in molti lo fanno in molti hanno proprio lo zainetto preparato per qualsiasi evenienza hanno per esempio uno zainetto da parte questa è una cosa che ho sentito da molte persone e infatti loro dicono beh se un giorno no dovesse accadere uno scenario così catastrofico io ho già il mio zainetto pronto con le cose no per la sopravvivenza lì posato in camera non fa del male a nessuno ce l'ho lì e lo tengo lì quindi fatemi sapere se è anche un'abitudine vostra voglio dire queste regole di John Titor fondamentalmente a me non convincono nel senso che ha scritto tutto e niente e cose come quelle di John Titor come le regole di John Titor le avrebbe potute scrivere chiunque anzi io magari le avrei fatto anche in modo migliore e qualcun altro di voi sicuramente le avrebbe fatto pure meglio di me però insomma nel momento in cui vengono raccontate queste storie ragazzi fateci caso storie che poi vengono puntualmente indirizzate alla popolazione mondiale non vengono nemmeno curate bene quindi gli sprovveduti coloro che hanno una base di ignoranza molto acuta finiscono col crederci finiscono col credere a queste storie che vengono puntualmente magari inventate per ledere la psiche umana mentre altri e quindi i ricercatori indipendenti si vanno ad informare cercano di capire da che cosa deriva una determinata cosa e quindi cercano comunque di fare delle ipotesi di porsi dei quesiti di rispondere a questi quesiti io di John Titor non mi fido della sua storia non mi fido vi ho voluto leggere queste regole perché penso che siano in un certo senso anche esilaranti e anche per sapere se ne eravate a conoscenza cosa ne pensate cosa ne pensate in generale di John Titor e se volete magari un video in cui approfondisco la tematica di Titor perché no io conosco la storia ve la potrei raccontare insomma la storia di John Titor è ormai famosa fino all'estremo mi fa venire la nausea ormai quando sento parlo di John Titor John Titor John Titor John Titor qui ci dovremmo più che altro preoccupare di quello che è il potere che tenta di manovrare tutti quanti noi ci dovremmo preoccupare di quello che accadrà effettivamente non tanto nel 2036 ma già nel 2021 di questo ci dovremmo preoccupare di questo e chissà come mai persone che all'Aggiuntitor ecco chissà come mai loro parlano sempre in modo vago dicono di essere venuti qua per aiutare anche per lasciare degli messaggi all'umanità però alla fine tutto lasciano tranne cose che comunque già tranne cose che appunto non sappiamo quindi fondamentalmente tutti questi falsi profeti ci dicono tutte le cose che noi già sappiamo e allora anche noi siamo viaggiatori siamo viaggiatori che provengono dal futuro magari di notte ci mettiamo a viaggiare a volare o magari inconsciamente non lo so cosa ci è successo ragazzi però la cosa che voglio dirvi è che se realmente io provengo dal futuro e voglio aiutare l'umanità faccio di tutto faccio di tutto per aiutare l'umanità e se addirittura aiutare l'umanità è il mio come dire il mio intento del mio progetto sin dall'inizio io rischio anche di rimetterci le penne pur di redarguire l'umanità pur di dire guardate cercate di fare in questo modo perché nel futuro non si vive bene ma ci parlano sempre delle stesse cose ci hanno per caso parlato di questo periodo? no o meglio sì ma lo hanno fatto molti insider o meglio persone che erano già nell'ambiente che sono già nell'ambiente quindi è facile una volta che si conosce il gioco ragazzi è facile giocare ed è facile anche interpretare una parte in questo gioco per cui non lo so ragazzi questo è il mio pensiero fatemi sapere voi come la pensate su John Titor io sono molto molto interessata a leggere i vostri commenti noi ci vediamo alla prossima fatemi sapere se volete ulteriori approfondimenti e se questa tematica dei viaggi dimensionali vi interessa vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo alla prossima e noi ci vediamo